Regione Lombardia promuove il progetto di filiera brassicolaretica finanziando il comune di Piuro per consentire l'acquisto di un impianto per la produzione professionale di birra. Lo comunica l'assessore all'agricoltura Alessandro Beduschi annunciando il provvedimento assunto su sua proposta dalla giunta regionale. È previsto uno stanziamento di 200 mila euro a favore del comune nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale che ha istituito un fondo per la ripresa economica a seguito dell'emergenza covid-19. In questo modo sarà acquistata tutta la strumentazione necessaria e la realizzazione dei lavori per la messa in funzione dell'impianto prevista entro marzo del 2024. Questo progetto, commenta l'assessore regionale Beduschi, crea l'occasione per dare slancio a un'attività storica per il territorio. Allo stesso tempo rafforza la filiera della produzione di birra artigianale di qualità che Lombardia è una realtà in grandissima crescita e vede l'Italia al quarto posto in Europa. L'avvio della produzione di birra in Val Chiavenna, conclude Beduschi, è coerente con la nostra intenzione di valorizzare l'economia agricola nei territori. Soddisfatto anche l'assessore regionale della montagna Massimo Sertori, ancora una volta la Val Chiavenna e in particolare il comune di Piuro hanno dimostrato proattività e forte interesse per lo sviluppo economico del proprio territorio. Proprio a Piuro, sottolinea Sertori, è stato realizzato uno degli otto campi di lupolo sperimentali lombardi, un progetto fortemente voluto da regione con l'obiettivo di sviluppare il settore della birra sul territorio.